Quindi mi sono iscritta a Filosofia, ero molto più grande degli altri miei compagni, mi sono lavorata molto tardi, nel frattempo ho cominciato a lavorare nell'editoria facendo veramente di tutto, da archiviare l'ufficio, fare l'archivio dell'ufficio stampa, le letture, redazione, segretaria di redazione, fino a che sono approdata in Salani, avevo già 30 anni, mi sono laureata con una tesi in Filosofia della Musica, quindi tutto si è intrecciato poi in questa formazione e poi ho cominciato a lavorare in redazione e dal 2000 sono diventata editor di Ponte alle Grazie e poi responsabile editoriale. Questo ve l'ho raccontato perché è veramente un percorso strano dove molte passioni non avevano, non hanno avuto uno sbocco, uno scopo, ma siccome tutto ha contribuito poi a una formazione culturale molto ampia. Vedete poi che il mio arrivo nell'editoria è stato totalmente casuale perché se non avessi incontrato Luigi Spagnolo forse mai avrei intercettato questo mondo, quindi è una storia particolarissima, ma forse la curiosità e la voglia di incontrare a tutti i livelli, sto parlando di relazioni e di materie, di temi, di ambiti, di argomenti è stata molto importante. Quindi ecco, sono approdata in casa editrice e poi è diventato, comunque ho deciso che ne avrei fatto il mio lavoro. Adesso pensavo poi di raccontarvi che cosa si fa in una casa editrice. Io penso tra l'altro che per i laureati in filosofia l'editoria sia un ottimo posto dove approdare. Io tra i miei collaboratori vedo che ci sono moltissimi laureati in filosofia, ovviamente per affinità i laureati in filosofia mi attirano quando leggo il curriculum più dei laureati in lettere, certo può essere assolutamente un'opinione di parte, vedo che Andrea sorride, però io penso che la filosofia dia anche sul piano puramente operativo, perché poi noi siamo un'industria e stiamo parlando anche di operatività, non stiamo parlando soltanto di leggere, pensare, poi dobbiamo produrre, e anche sul piano operativo dia dei grandissimi risultati, perché poi in fondo la filosofia dà degli strumenti per la comprensione della realtà e per essere operativi in modo efficace la comprensione della realtà è fondamentale. Io pensavo che fosse interessante per voi spiegarvi che cosa si fa in una casa editrice, perché mi immagino che non sia così chiaro da fuori quali sono i ruoli e quale sia il processo. Per me, per esempio, quando ho incontrato Luigi Spagnol non lo era per nulla, forse voi siete meno ingenui di me, ma in ogni caso quali sono le declinazioni del lavoro all'interno della casa editrice. Parto dal mio ruolo, che è quello di editor, perché possiamo considerarlo un ruolo centrale, perché siamo noi che portiamo i prodotti, i libri, li portiamo nel senso che li procuriamo, li cerchiamo, siamo dei cacciatori, siamo i cacciatori che riempiono il carniere. Poi tutto il resto della casa editrice serve per organizzare questi prodotti, per rivenderli, per costruirli, per rivestirli, per cucinarli, ma noi andiamo a caccia nella foresta. Quindi il nostro lavoro è quello di scegliere, di pensare un programma, di pensare anche la linea editoriale e di andare a cercare i libri che più si adattano al nostro marchio. Lo facciamo con vari canali, abbiamo molti contatti con gli agenti letterari che ci mandano delle proposte, con gli editori esteri che ci mandano le loro pubblicazioni. Siamo noi stessi che ci rivolgiamo ad autori, giornalisti, personaggi che vediamo nel mondo della cultura. Riceviamo naturalmente proposte da amici di autori, c'è un mondo intorno alla casa editrice che propone, e riceviamo anche manoscritti per posta che prendiamo in considerazione quando ci sembrano interessanti. Questo è fondamentalmente quello che fa un editor, oltre poi quando ha acquisito il testo, se si tratta di un testo italiano farà un lavoro sul testo italiano. Questo è il lavoro di editing, che è il lavoro più letterario, di scrittura all'interno della casa editrice, di rapporto con l'autore, è un lavoro molto bello, molto difficile, intenso, anche creativo, che mette in campo molte abilità, che sono quelle della scrittura, della sensibilità al testo, ma anche un'abilità di relazione con l'altro molto importante. E poi tutto il progetto del libro, che vuol dire come pensare una copertina, certo ci sono i grafici, ma è l'editor che indirizza, che chiede, che spiega qual è la direzione, i testi di copertina, il titolo, il sottotitolo, cioè bisogna fare un bel pacchetto di questo libro, che poi verrà dato in mano ai lettori. Seconda, quindi questo è uno dei ruoli, in una casa editrice ci possono essere, a seconda della grandezza, uno o più editor ovviamente, le grandi case editrici ne hanno molti, quelle piccole ne hanno di meno. Per acquisire però il libro, noi abbiamo bisogno di una parte, direi la parte acquisizioni, l'ufficio acquisizioni, che si occupa di fare la trattativa e di organizzare un contratto. Questo si chiama ufficio diritti. Ogni casa editrice possiede un ufficio diritti, che tiene tutti i rapporti con gli agenti, con gli editori, con gli autori, che formalizza dei contratti che sono molto complessi, perché i diritti di sfruttamento di un libro sono una cosa molto ampia. Il diritto d'autore è inalienabile, quindi noi abbiamo dei diritti di sfruttamento per diverse tipologie di prodotto, cioè il libro non è l'unica tipologia, ci sono gli e-book adesso, ci sono gli audiolibri, ci sono i podcast, c'è il cinema, c'è il teatro, ci sono i diritti esteri di traduzione, se si tratta di un libro italiano, ci sono i diritti di raccolta, quindi il contratto è veramente una cosa molto complessa, quindi l'ufficio diritti si occupa di gestire tutta questa parte, di acquisire ed è una parte molto importante ed è un altro posto molto interessante dove lavorare in casa editrice. Quando il libro è acquisito e si è cominciato a dare una fisionomia al libro, noi lo presentiamo al nostro commerciale, perché non basta produrre il libro, pensarlo, poi bisogna lanciarlo fuori dalla casa editrice. E come funziona? Esiste un ufficio commerciale che si occupa di promuovere presso i librai il nostro prodotto. Io però per prima cosa lo presento a loro, cioè io prima vendo il mio libro a loro e dico ho un libro bellissimo, fatto così e cos'ha, e voi dovete cercare di venderlo ai librai. Questa è una fase importantissima del nostro lavoro che viene supportata dall'ufficio marketing. Insieme all'ufficio marketing noi produciamo dei materiali di presentazione di questo libro per la rete commerciale che parlerà con i librai, fa da tramite tra noi e i librai. Primo momento di vendita, cioè per prima cosa il libro viene venduto al commerciale che poi lo vende ai librai. Il marketing è diventato in questi anni una funzione importantissima, è cresciuta moltissimo. Quando io ho cominciato a lavorare non c'erano gli uffici marketing nelle case editrici. Adesso sono veramente uffici molto importanti che gestiscono questa fase, ma molte altre fasi gestiscono i social, gestiscono le piattaforme, la pubblicità sulle piattaforme dei libri, fanno veramente moltissime cose. Anche questo è un lavoro interessantissimo che fa parte della comunicazione dove si creano materiali, si inventano slogan. Pensate un po' al lavoro dei pubblicitari, un po', dove bisogna con poche parole, con immagini, con messaggi, che siano anche commerciali, quindi non ci sono solo i messaggi editoriali, ci sono anche i messaggi commerciali, comunicare con la nostra parte commerciale. Fatto questo, il libro viene presentato ai librai che decidono, in base a questa nostra comunicazione, quante copie acquistare del libro. Il libro viene preparato in casa editrice, quindi c'è anche una redazione che lavora sui testi, ci sono le correzioni di bozze, quindi lavoro testuale. C'è un ufficio tecnico che si occupa di gestire i rapporti tra la casa editrice e le tipografie, che controlla la qualità della stampa, i costi della stampa, anche questo è un ufficio, una parte molto importante della casa editrice e quando il libro va in libreria viene affidato alla parte della comunicazione che è l'ufficio stampa e in parte anche il marketing, che lavorano perché si sappia che questo libro è finito sugli scaffali delle librerie, perché poi ancora non basta, cioè i librai hanno questo libro, sanno che dovrebbero sapere che cos'è, quindi fanno da tramite tra noi e i lettori, ma poi bisogna spingere la gente ad andare in libreria e chiedere proprio quel libro. I nostri strumenti sono degli strumenti abbastanza tradizionali ancora, arcaici forse, visto che affidiamo in parte ancora la promozione ai giornali, si sta lavorando molto sui social e questo è un altro ramo che si sta sviluppando molto, c'è la comunicazione attraverso i social che spesso viene appaltata esternamente e quindi ecco, lavoro di ufficio stampa. Questa più o meno è la declinazione, cosa succede in casa editrice, quindi una parte editoriale con scelta dei titoli, acquisizione ufficio diritti, comunicazione prima e dopo, quindi marketing e ufficio stampa, l'ufficio commerciale, cioè quelli che vendono i nostri libri in libreria alla promozione, la redazione che avviene dentro la casa editrice e oggi molto anche esternamente, questo lavoro viene fatto esternamente. Intorno a questo grande team di cui vi ho parlato ci sono poi delle professioni esterne che sono interessantissime, sempre secondo me per la nostra, per la formazione filosofica che sono gli organizzatori di eventi, di festival, che veramente hanno uno sviluppo enorme in questo periodo e stanno diventando sempre più interessanti, i librai, le scuole di scrittura, le agenzie letterarie, quindi moltissime professioni collegate al mondo editoriale. Il tempo è pochissimo, io vi ho fatto una panoramica molto veloce, però io vedo che le persone che mi scrivono curriculum, mail chiedendomi di lavorare, pensano che il lavoro in casa editrice sia fondamentalmente un lavoro sui testi, cioè si pensa alla parte redazionale, mentre la parte redazionale è solo una parte del lavoro, c'è una grandissima macchina che lavora attorno al libro per portarlo alla luce. Ci tenevo appunto a spiegarvi qual è l'articolazione, perché ognuno può pensare poi di cercare di lavorare in quella direzione e quindi di affiancarsi a uno di questi rami. Il problema poi qual è? Come si fa a entrare in una casa editrice? Questo mi sembrava quello di cui dovevamo parlare. Quando io ho fatto il mio percorso, totalmente anomalo, quindi non è ad esempio, comunque non esistevano, i percorsi erano tutti anomali, perché non c'era modo se non mandare un curriculum, forse anche conoscere qualcuno, è che è un modo come un altro per entrare in contatto con delle realtà lavorative. Adesso esistono i master che sono una risorsa importantissima perché in casa editrice vengono presi stagisti e noi ne abbiamo avuti moltissimi e devo dire che gli stagisti che hanno lavorato da noi, che arrivano dai master, spessissimo hanno trovato lavoro o all'interno del gruppo, il gruppo è molto grande per cui c'è molta mobilità, o in altri casi editrici perché è un momento, uno stage è un momento di contatto, di conoscenza e di sviluppo di relazioni che sono poi importantissime per trovare, per poter lavorare, per potersi presentare, per potersi mostrare, far vedere che cosa si sa fare e chi si è. I master, io penso che li conosciate anche voi, i più interessanti, l'Università degli Studi ha un master fatto in collaborazione con la Fondazione Mondadori e l'Associazione Italiana Editori, ma ce ne sono anche in Cattolica, allo Iulm, e poi Verona, Bologna, Scuola Olden, fa un master a Torino di editoria, le scuole sono moltissime. Oggi come oggi, penso che sia il modo più interessante per entrare nel mondo editoriale, perché questi stage poi sono la chiave per entrare in una casa editrice per vedere come funziona, per chi ci entra, per vedere come funziona, e per noi, per poter avere sotto gli occhi una persona a lungo e poter dialogare, quindi con diversi interlocutori. Quindi è interessante per noi, è interessante per chi vuole entrare in questo ambiente. Penso che possiamo lasciare spazio alle domande, se ce ne sono. Allora, al momento non ne vedo. immagino anche dovuto al fatto appunto che avendo fatto l'errore strategico di strombazzare che avremmo registrato. Città a pochi. Detto questo, nel tempo, un paio io. Diceri, adesso parlavi di master e descrivevi anche il modo in cui tu sei entrata nel mondo dell'editoria, ma c'è, e descrivevi che ci sono varie figure professionali all'interno di una casa editrice, vari ruoli. C'è un ruolo tipico con cui un laureato in filosofia può entrare oppure in realtà con il fatto che si entra tramite master a questo punto è molto differenziato. Perché mi pare di capire che quando sei entrata tu forse il ruolo tipico fosse quello del lettore o della lettrice. Adesso invece mi pare che probabilmente è la cosa più flessibile. Quando sono entrata io era molto più facile trovare lavoro facendo i lavori in redazionali. Intanto perché c'era molta flessibilità che potevi lavorare e io mi sono mantenuta facendo l'università facendo collaborazioni in redazionali perché non c'era limite cioè la legislazione era molto più semplice era ritenuta da conto quindi venivano dati fuori moltissimi lavori tranquillamente. Adesso è complicatissimo di fatto poi bisogna bisogna aprire partita IVA. Ancora vengono appaltati fuori a moltissimi lavori di redazione. La redazione è un modo è il modo più classico perché passa attraverso il testo e si può esternalizzare. Gli altri lavori ovviamente ti puoi immaginare che l'ufficio diritti è impossibile l'ufficio tecnico anche il commerciale anche sul marketing ci sono invece delle possibilità di esternalizzazione ma anche lì perché è un lavoro sul testo la comunicazione anche viene fatta esternamente c'è molti uffici stampa ci sono degli uffici stampa esterni che appaltano gli si appalta un libro e gli si dice puoi lavorare a questo libro e loro lavorano solo a quel titolo fanno la comunicazione su quel titolo non mi sembra che ci siano dei lavori più adatti ai filosofi di altri mi pare ormai in quasi tutti i rami dell'ufficio a parte forse l'ufficio tecnico ma sia nel marketing che in redazione e anche nell'ufficio diritti e nell'ufficio stampa ci sono stegisti che vengono a lavorare e quindi uno può presentarsi in uno di questi ambiti a seconda delle sue preferenze se pensa che la comunicazione sia più interessante o il marketing o il lavoro redazionale a seconda delle proprie inclinazioni in ogni caso a prescindere dal ruolo una delle grandi morali che ho tratto dalla tua presentazione è che un ottimo modo per entrare in editoria è aprire un negozio di ceramica e ci entri dentro non volevo dire questo ho fra inteso mi spiace no senti in realtà passiamo ai prossimi relatori però prima ho una domanda lo racconto perché io la trovo una cosa divertentissima è anche un omaggio a Luigi Spagnol che non c'è più che è morto due anni fa perché e poi non voglio andare controcorrente cioè noi studiamo facciamo i master pensiamo che quello è il percorso e poi ovviamente ci sono questi fiori che nascono in mezzo al cemento e uno li deve li deve cogliere volevo anche dire questo insomma no no senti allora prima di passare ai prossimi relatori ti faccio una velocissimissima domanda visto che siamo solo leggermente in retrato che ha a che fare con una presentazione che c'era stata l'anno scorso sempre dal mondo dell'editoria dove un editor della Red Story aveva spiegato che insomma il suo lavoro in quanto editor di non fiction è incredibilmente differente da quello dell'editore classico dove molto spesso in una casa editrice come Rizzoli quello che ci si trova a dover fare è per esempio trovare il ghostwriter per l'influencer di turno che vuole scrivere un libro e mi ricordo che quando avevo parlato con te prima dell'incontro quando ci siamo conosciuti e vi ho detto che questo insomma non bisogna generalizzare troppo varia di editore editore magari vuoi dire qualche cosa su questo enfatizzando che a volte insomma nel mondo dell'editoria ci sono anche grosse differenze da editore e editore e sì enormi perché dipende dal marchio dove si finisce a lavorare il nostro è un marchio letterario noi facciamo narrativa letteraria esaggistica filosofica storica scientifica quindi io generalmente non trovo anche io trovo i ghost a volte non è che si fa un po' di tutto però dipende moltissimo dal dal marchio e poi anche dall'articolazione della casa editrice Rizzoli è una casa editrice grandissima è un editor delle cose diverse da quelle che faccio io sicuramente abbiamo dei ruoli molto molto diversi lì è molto più gerarchizzato quindi un editor segue un pacchetto di libri che probabilmente non ha comprato direttamente non ha scelto ma sta facendo un lavoro un servizio mentre in una casa editrice più medio piccola come è la mia pur dentro un grande gruppo io sono responsabile di tutto il percorso del libro adesso è difficile raccontare tutte queste cose in questo spazio e comunque no mi sembra che quello rappresenti una realtà non tutte le realtà io ho cercato di darvi una piccola panoramica di quello che è l'ossatura di una casa editrice e poi ci sono mille declinazioni anche in questa ossatura no grazie mille volevo dirvi una cosa visto che è stato molto molto veloce ho potuto raccontare solo molto velocemente vi lascio volentieri la mia mail nel caso gli studenti abbiano delle domande specifiche così posso rispondere nei particolari e privatamente perché magari non avete voglia di fare domande in questo momento e la mia mail ve la dico a voce ma poi Andrea se vuoi tu mandarla è cristina punto palomba chiocciola ponteallegrazie punto it grazie mille e soprattutto no non pensate che si debba incontrare un editore veramente non volevo non volevo raccontare questo Andrea sono sicuro di essere l'unico che ha frainteso tranquillo hai frainteso sempre va bene va bene grazie mille Cristina grazie a voi grazie buona mattinata allora vedo che compare e compaiono i nostri le nostre prossime relatrici ok dovrebbe comparire anche eccolo qua perfetto Antonio perfetto ciao Marina ciao Giulia ciao Antonio non c'è sono tantissime persone collegate perché ho fatto l'errore strategico di rendere disponibile la registrazione del primo incontro e di strombazzare i quattro venti che avrei fatto lo stesso con il secondo incontro quindi siamo passati dagli 80 partecipanti della prima ai venti che ci sono in questo momento detto questo assumete che ci saranno sicuramente varie altre persone che guarderanno il video nel senso che nel gruppo ci sono 140 persone quindi non state parlando dal nulla ok allora passo alla presentazione di Marina Collauti Antonio Bencini Farina e Giulia Stefano da Generali Assicurazioni ora non penso che sia necessario spiegarvi che cos'è Generali Assicurazioni visto che anche tra l'altro l'assicurazione in Generali Assicurazioni aiuta da quel punto di vista volevo solamente dire che stiamo pensando con Marina alla possibilità di ampliare la nostra partnership e quindi è possibile che in futuro ci siano delle iniziative coorganizzate con loro di questo ovviamente vi avvertiremo nel caso esattamente come abbiamo avvertito in questo modo quindi vi manderemo un'email pubblicheremo annunci eccetera e per il resto non posso che ringraziare appunto Marina Giulia e Antonio e cedo la parola immagino a Marina sì parto io parto io allora buongiorno Andrea buongiorno a tutti presenti e remotizzati o quanti ascolteranno la registrazione successivamente io sono molto contenta di poter raccontarvi qualche cosa diciamo che quanto vi racconteremo noi probabilmente è molto diverso da quanto avete sentito raccontare da parte di Cristina relativamente al mondo delle società editrici delle case editrici e probabilmente vi parliamo di ruoli che meno automaticamente un aspirante filosofo immagina di poter considerare però il motivo per cui siamo qui e le professionalità di cui vi parleremo parte dal presupposto che noi crediamo che chi si accosta allo studio della filosofia sia una persona che ha capacità di approfondimento capacità spiccate di analisi capacità di pensiero laterale di pensiero critico e poi di pensiero sintetico tutti requisiti che poi si esplicano in maniera diversa ma partendo da questo tipo di competenza in tantissimi mestieri e soprattutto in tantissimi nuovi mestieri di cui vi parleremo quindi a nostro avviso voi state fertilizzando un terreno sul quale dopo potrete costruire tantissimo vi daremo qualche spunto ma il messaggio forte che voglio darvi è orecchie aperte verso il mercato ascoltate cosa il mercato richiede e ascoltate tutte le opportunità che vi offre anche di formarvi verso quelle che sono le professionalità magari sconosciute ma che la faranno da padrona da qui in avanti detto questo io chiedo a Giulia di aprire la presentazione nella prima slide vedete le fotografie di Giulia Stefano Antonio Bencini Farina sono colleghi che vi parleranno poi di che cosa fanno concretamente ma un po' di anni fa erano seduti come voi nei banchi universitari della facoltà non vedo ancora la presentazione penso che Giulia debba condividere il monitor sì chiedo scusa Andrea non sono abilitata alla condivisione arrivo subito ti metto come relatrice grazie quindi si immedesimano molto con voi e vi racconteranno che cosa sono finiti a fare quindi il percorso che hanno sviluppato Andrea vi ha già parlato di Generali Generali è la più grossa società assicurativa in Italia ma è presente in tutto il mondo in più di 50 paesi è una società che sta cambiando tantissimo per effetto di tutta la digital transformation e quindi sta veramente modificando tutto il modo di agire a livello di processi di interazione con i clienti di prodotti di servizi e quindi con anche delle professionalità che oggi sono fra le più richieste a livello di mercato globale all'interno di vai pur avanti Giulia grazie il modo in cui Generali si pone a livello di mercato è quello di voler essere partner di vita delle persone e questo in coerenza con il ruolo di assicuratore di protettore della vita delle persone ma quando poi Generali si mette il cappello di datore di lavoro come datore di lavoro dice sto offrendo più di un lavoro perché a chi lavora in Generali non viene offerto soltanto un posto di lavoro con uno stipendio ma vengono offerte opportunità di formazione continua opportunità di sviluppo opportunità di alzare la mano per cambiare mestiere vedete scritto interno al job market è un processo secondo cui vengono pubblicate su un portale interno le posizioni aperte e magari posso decidere se sto lavorando nelle risorse umane di andare a occuparmi di marketing o a darmi ad occupare di comunicazione o di altre cose c'è tutto un programma attivo di upskilling e reskilling digitale perché oggi le competenze digitali sono imprescindibili e non tutti le hanno così spiccate soprattutto chi ha iniziato a lavorare parecchio tempo fa e poi ci sono tutta una serie di iniziative che vanno sotto il cappello di diversity e di inclusion finalizzate ad avere un'organizzazione del lavoro che sia più inclusiva all'interno della quale si possano riconoscere tutti con pari opportunità uomini donne italiani stranieri bianchi neri gialli con preferenze sessuali diverse con preferenze religiose politiche diverse in un ambiente dove tutti sentano di poter avere lo spazio necessario l'inclusione da parte di generali si esplica anche attraverso tutta una serie di iniziative di welfare per facilitare l'equilibrio vita lavoro e anche proprio dei programmi di wellness per aiutare le persone a condurre uno stile di vita sano ad avere anche dei trainer dei coach per impostare delle abitudini che siano di attività fisica alimentare di supporto psicologico tutto ciò di cui si può aver bisogno per stare meglio ancora di più in un'organizzazione e in un momento come quello attuale dove siamo tutti abbastanza turbati da questa pandemia che non vuole andarsene andando a vedere e vai pure avanti grazie quali professioni per la filosofia noi siamo andati a guardare all'interno del nostro database per vedere i laureati in filosofia che cosa stanno facendo oggi in generale abbiamo visto che abbiamo dei laureati in filosofia che si occupano di informatica che si occupano di big data advanced analytics che lavorano nell'ambito delle risorse umane e dell'organizzazione che lavorano nelle strutture di vendita nella comunicazione nell'ambito della sostenibilità sociale marketing nella sottoscrizione quindi ruoli anche più tecnici a livello assicurativo e rispetto a questo grazie Giulia in particolare siccome in questa fase noi abbiamo tantissimo bisogno di persone con competenze digitali abbiamo anche promosso dei programmi specifici per professionalizzare le persone laddove non riuscivamo a trovare un numero sufficiente di persone con le competenze digitali l'esempio che vedete proiettato in questa slide si riferisce a un percorso di sviluppo per formare degli esperti in materie informatiche degli IT developer abbiamo coinvolto 15 ragazze l'abbiamo fatto al femminile proprio per aumentare anche la percentuale di donne in questi ruoli più tecnologici abbiamo coinvolto 15 ragazze che non avevano esperienze in ambito IT non avevano nemmeno una specifica laurea in IT le abbiamo chiaramente selezionate sulla base di colloqui motivazionali e anche con dei test psicoattitudinali per capire quale potesse essere l'attitudine abbiamo organizzato un periodo di aula dove hanno fatto circa tre mesi di aula per imparare tutta la parte più teorica del ruolo di software developer a seguire a seguire sono state poi coinvolte in un periodo di formazione on the job quindi in azienda hanno lavorato di fianco ad altri colleghi che si occupavano di queste cose e al termine di questa formazione sono state assunte è stata una diciamo un'iniziativa che ha avuto un successo veramente notevole che ci ha confermato la possibilità di formare persone su competenze digitali anche in assenza di una base già presente prima e questo è il tipo di approccio che noi stiamo adesso diffondendo anche verso altri mestieri per formare quelle competenze che non si trovano abbiamo anche canalizzato questo tipo di iniziativa all'interno di una nuova piattaforma che si chiama Go Generali Giulia magari saltiamo il video perché vedo che col tempo siamo un pochino più strettini andiamo magari a vedere che cos'è abbiamo creato proprio per i giovani per le persone che si devono avvicinare al mondo del lavoro una piattaforma che si chiama Go Generali dove che vi invitiamo anche a visitare poi potete scaricarvi il QR code dove mettiamo a disposizione tutta una serie di iniziative per meglio comprendere il mondo del lavoro quindi tutta una serie di iniziative di orientamento fatte anche con il coinvolgimento di persone di colleghi che vi possono parlare del contenuto dei nuovi ruoli ma non soltanto diamo la possibilità alle persone di fare anche degli assessment dei test per conoscere il proprio livello di competenza e ricevere anche un report personalizzato e sulla base poi di questo report personalizzato le persone possono accedere a dei corsi di formazione sia per sviluppare le competenze soft trasversali che sono oggi imprescindibili per lavorare in azienda sia anche per acquisire delle competenze più tecniche ci sono dei corsi proprio per sviluppare le competenze digitali che oggi il mercato chiede e sono dei corsi ovviamente gratuiti alla fine dei quali viene anche rilasciato un diploma e vengono anche rilasciati poi dei coin per quindi c'è un recognition system collegato che consente a chi completa il percorso formativo di avere questi coin e questi badge con i quali possono anche riscattare poi dei premi quindi è un'iniziativa che fa proprio leva sull'autosviluppo la persona deve sentirsi responsabile del proprio sviluppo professionale e intraprendere delle strade per migliorare le proprie competenze quindi è un'iniziativa nuovissima molto innovativa e pensata proprio per le persone quindi se volete potete anzi vi suggerisco di andarla a vedere vai pure sulla slide dove c'è il QR code ecco potete scaricarvi il link e accedere attraverso il QR code ecco lascerò lì un attimo per avere la possibilità di sfruttare questa opportunità di autosviluppo e di autodiagnostazione anche di quello che possa essere il vostro livello di competenze io mi fermerei qui se c'è qualche domanda sono molto aperta a rispondere se volete contattarmi ci sono su LinkedIn e poi Andrea magari vi passa i miei riferimenti mi spiace non vedervi di persona perché mi piacerebbe anche chiedervi che cosa avete in animo di fare da grandi se lo sapete già se avete qualche idea o se in qualche modo possiamo aiutarvi a orientarvi considerate che il vostro è un terreno estremamente fertile che si presta moltissimo ad essere riconvertito nei ruoli più prestigiosi e più richiesti oggi grazie a tutti e passo la parola prima a Giulia e dopo Antonio mi sembra giusto? grazie Marina e per quanto riguarda la questione dell'in persona ti posso garantire che il prossimo incontro la prossima edizione sarà in persona a costo di farla con lo scafandro perfetto grazie ok perfetto grazie mille Marina grazie a tutti per chi è qui oggi e per chi ci sta guardando il video io sono Giulia Stefano e sono oggi digital HR in generali e come voi appunto provengo da un percorso in filosofia mi ricordo che quando ero all'università mi ponevo spessissimo questa domanda quali sono le possibili professioni o come posso costruirmi una professionalità con le competenze che mi fornisce e mi fornerà la filosofia la risposta che mi sono data nel corso del tempo oggi è che in realtà non esiste una risposta giusta o quantomeno una risposta univoca in quanto tra qualche anno nasceranno tante di quelle nuove professioni che ad oggi non sono nemmeno immaginabili la filosofia però ha una virtù ha un plus fornisce delle basi come il pensiero critico l'approccio analitico il pensiero laterale che sono delle ottime risorse per anticipare da una parte quelli che saranno anche i trend del mercato e dall'altra la possibilità di costruirsi una professione anche in base a quelle che sono le proprie passioni io oggi vi racconto in breve la mia esperienza io oggi sono appunto in generali Italia che è una multinazionale grandissima e molto all'avanguardia e tra le altre cose mi occupo di recruiting ed employer branding ma quando ero all'università mai mi sarei aspettata di essere qui oggi a raccontarvi soprattutto magari in generale di fare employer branding perché nemmeno sapevo cosa significasse una cosa però all'università la sapevo allora ed oggi ancora ero molto appassionata di quello che è il mondo tecnologico il mondo digital o per me meglio dirla anche in termini filosofici il mondo della tecnica quindi già all'adrennale ho approcciato tutto quello che riguarda le questioni metafisiche dell'esistenzialismo inizialmente con Heidegger e poi sviluppando una tesi su uno dei suoi allievi che è Hans Jonas sul principio della responsabilità un'etica per la civiltà tecnologica qui mi si era aperto un mondo avevo scoperto una filosofia molto concreta una filosofia contemporanea una filosofia della vita di tutti i giorni approcciando tematiche come l'intelligenza artificiale la bioetica tematiche come la filosofia della scienza e dei sistemi complessi ho deciso quindi dopo il primo percorso diennale di continuare ad approfondire queste tematiche in un percorso magistrale e grazie alla mia università ho vinto una borsa di studio per quello che era un doppio titolo che è un percorso di studi anche di lauree all'estero ho scelto di trasferirmi in Francia dove ho proseguito nell'approfondire tutte queste tematiche di taglio analitico quindi filosofia della scienza filosofia dei sistemi conclessi e una volta laureata avevo davanti a me due strade sapevo che volevo quindi coniugare da un lato la mia passione per le scienze umane con tutte le competenze che mi aveva fornito la filosofia quindi approccio analitico pensiero laterale dall'altra la passione per il mondo digitale per il mondo della tecnologia e ho visto nella figura dell'HR nella figura delle risorse umane la perfetta sintesi di queste mie due anime di queste mie due passioni ho scelto quindi di trasferirmi a Milano ho fatto un master in HR management al Sole 24 ore dove appunto vedevo la figura dell'HR come concretamente una figura che ha un impatto all'interno dell'azienda sia appunto come abbiamo visto verso i suoi dipendenti si pensi solo alle iniziative di formazione di benessere di ingaggio ma anche soprattutto verso l'esterno quindi di responsabilità sociale di orientamento di sviluppo verso i talenti e quindi al master iniziavo ad approcciarmi ad acquisire le prime competenze tecniche e concrete che mi avrebbero permesso di entrare all'interno di un'azienda per fare ciò che sognavo dopo il master vengo quindi assunta in generali inizialmente in stage e qui oggi dopo circa anzi già due anni mi occupo di tutti quei sistemi e progetti molto digitali innovativi come avete visto per esempio Go Generali di recruiting di figure all'avanguardia anche confrontandomi con un panorama internazionale di tutti quei sistemi anche definizione di tools e strumenti tecnologici all'interno di un'azienda all'interno del team sfruttando sempre le competenze che comunque ho acquisito e sviluppato nel mio percorso di laurea quindi l'approccio analitico il pensiero sia creativo il pensiero laterale che ho portato con me e con sempre continuerò a portare con me nel percorso anche di formazione continua perché ho scoperto che questa comunque è la mia strada e vorrò sempre comunque continuare a specializzarmi nel mondo digitale portando però sempre con me le competenze che mi ha fornito la filosofia vi lascio solo un mio motto che mi accompagna da sempre che è SIGFARVIS MANIA dalle piccole occasioni dai piccoli momenti possono nascere grandissime risorse grandissime occasioni quindi non perdete mai di vista quello che può sembrare oggi insignificante anzi seguitelo perché potete costruire su di quello una grande occasione per il vostro futuro io vi auguro un in bocca al lupo lascio ora la parola ad Antonio e vi ringrazio anche per il vostro tempo grazie Giulia solo un bellissimo osservazione devo ammettere che prima ero rimasto stupito ma nulla in confronto al passaggio da Heidegger e anzi Jonas al mondo digitale questo ha fatto totalmente esplodere la mia mente grazie si dicevo che ho un percorso un poco ativico però sia nella filosofia ho sempre cercato anche studiando l'anima tecnologica per poterla coltivare anche nel mio futuro quindi credo molto che la filosofia abbia il digitale intrinseco in sé perché come diceva anche Heidegger la tecnica è una parte del disvelamento dell'essere quindi dobbiamo usarla al meglio abbiamo la responsabilità anche di indirizzarla quindi è lì che ho sviluppato tanto la mia passione anche da filosofo analitico mi hai quasi convertito ad Heidegger però quasi sono buone speranze grazie passiamo Antonio prego parola a te ciao a tutti allora io sono Antonio Bencini Farina credo di avere poco tempo quindi cerco di fare una sintesi estrema del mio percorso andando a braccio allora sono un altro laureato in filosofia come voi forse immagino l'azione un pochino precedente a quella di Giulia eccetera e sono anche un filosofo di stampo analitico nel senso che io mi sono laureato a Pisa con Aldo Gargani su Wittgenstein e sono Wittgensteiniano di ferro devo dire nonostante mi sia laureato 16 anni fa ecco continuo a ritenermi Wittgensteiniano di ferro la scuola è quella e sono andato vi racconto brevemente proprio andando a braccio il mio percorso che è abbastanza articolato arrivando al punto di arrivo cioè oggi sono senior data scientist in generale e voi dite ma come data scientist no the sexiest job the 21st century come disse The Economist un po' di tempo fa cosa c'entra con un filosofo bene perché è un mestiere estremamente operativo ed estremamente tecnico da un certo punto di vista bene vi posso garantire che con un filosofo c'entra e c'entra anche tanto tra l'altro spoilerò subito che non sono l'unico filosofo data scientist che conosco ne conosco almeno altri 7-8 forse anche qualcuno di più quindi in realtà è un maccombo che non mi sono inventato io ecco insomma ce ne sono pochi altri in giro buoni però ce n'è allora come ci sono arrivato beh in una maniera abbastanza tortuosa che poi in realtà si è rivelata assolutamente lineare e quando mi sono iscritto all'università io ero già interessato alla diciamo area filosofica analitica sono sempre stato un appassionato di tecnologia di computer di informatica eccetera e io mi sono laureato con il back di ordinamento non è stato proprio l'ultimo no? e ho avuto la fortuna di poter a Pisa scegliere praticamente il mio percorso di studi no? quindi ho sempre puntato su un piano di studi di stampo logico-analitico con anche delle puntate interessanti sulla psicoanalisi che in realtà era uno dei miei grandi temi e delle mie grandi passioni che mi ha permesso per esempio di studiare nei primi anni di filosofia anche neuroscienze neuroscienze in normale e mi ricordo che uno dei primi esami di epistemologia che ho dato feci alla lavagna a mano le funzioni sigma per le reti neurali no? bene oggi invece le faccio programmando in python quindi questo per dire che il il percorso non è stato poi così così strano perché come hanno detto ottimamente i colleghi che mi hanno preceduto effettivamente quando mi chiedono come mai un filosofo fa il data scientist la risposta che mi viene è che il filosofo è abituato così come il data scientist per il suo come il suo mestiere a estrarre significato dalla complessità da un contesto che sia linguistico sociale eccetera comunque sempre estremamente complesso e una non voglio dire che sia la definizione del filosofo ma penso che estrarre significato dalla complessità sia una delle definizioni di che cosa fa o comunque di cosa fa il filosofo o comunque di una definizione della disciplina filosofica no? quindi il data scientist arrivando un attimo al mestiere in generale chi è? Il data scientist è una persona molto un professionista molto preparato in informatica in statistica in matematica cosa che io non sono assolutamente tra l'altro e mi ritengo con orgoglio un vecchio filosofo in questo senso no? E molto operativo nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale che servono per appunto estrarre informazione da grandi grandi quantità di dati no? Quindi come ci sono arrivato? Ci sono arrivato proprio perché avevo un background filosofico analitico con un forte interesse personale e anche diciamo di studio verso la tecnologia la logica la matematica le neuroscienze l'informatica eccetera avevo due strade davanti quando mi sono laureato in filosofia o proseguire con il dottorato e fare carriera accademica cosa che mi sarebbe molto piaciuta o seguire il mio sogno che era quello di fare e ancora dire la verità HR di generali non mi ha sentito in questo momento di fare il regista e lo sceneggiatore bene l'ho fatto per un po' con anche buoni risultati e poi è arrivato Netflix è arrivato Netflix e ha cambiato completamente il mondo del cinema e la tv eccetera e come lo ha cambiato? Lo ha cambiato con il mondo degli analytics e degli advanced analytics e dell'intelligenza artificiale eccetera e quindi io che facevo il produttore indipendente mi sono detto beh forse è il caso che visto che comunque ho un background e una passione verso questi temi mi vado a fare un bel master in data science che era in 2014 era proprio al centro del come oggi lo è del del dibattito proprio sul futuro del lavoro e quindi ho fatto un master proprio di secondo livello molto molto intenso in proprio in data science big data analytics sono diventato un data scientist e ho fatto l'esperienza di andare a lavorare prima per un gruppo grande di telecomunicazioni e poi per General Italia allora detto questo come vedete nella vita non si sa mai dove si va a finire ma con una laurea in filosofia e quindi con un'abitudine a mettersi in gioco a ragionare e lo ripeto per l'ennesima volta perché mi piace però penso che colga al punto riuscire ad avere dopo avere l'attitudine di riuscire ad estrarre significato dalla complessità si può fare anche un mestiere molto tecnico come quello del data scientist ovviamente studiando molto mettendosi in gioco provandoci perché non hai detto che riesca però diciamo la mia conclusione per oggi è questo cioè che quando io mi sono iscritto a filosofia il data scientist come mestiere non esisteva cioè nessuno parlava di data scientist era proprio una figura professionale che non esisteva e molti anni dopo la mia laurea dopo aver fatto un percorso abbastanza arzigogolato ma coerente alla fine poi mi ritrovo a fare il data scientist con grande soddisfazione ho dovuto aggiungere praticamente una seconda laurea cosa che non mi è certo dispiaciuto è stato faticoso certamente ve lo dico fin da subito è chiaro che il data scientist con un background in filosofia non sarà mai il data scientist con un dottorato in matematica applicata però sono due figure professionali diverse che possono svolgere compiti diversi perché poi alla fine il data scientist è una figura professionalmente molto operativa ma che è declinabile in vari stream processivi e professionali tant'è che io per esempio collaboro molto con i temi anche di marina e dell'area di HR eccetera quindi questo in conclusione per dirvi che di valorizzare sempre la vostra laurea in filosofia e di prenderla molto sul serio anche quando apparentemente gli altri non la prendono sul serio e pensano che sia o una laurea facile o una laurea poco utile credo che sia forse la laurea più utile che si può prendere oggi tant'è che se io tornassi in dietro studierei magari studierei meglio ma studierei sempre filosofia ecco e devo dire che questo non è diciamo l'orgoglio del vecchio filosofo che viene fuori ma sono i fatti che lo provano tant'è che ripeto conosco molti laureati in filosofia che sono data scientist conosco molti laureati in filosofia tra l'altro non vorrei fare una gaffe però se non sbaglio nel dipartimento di Andrea Guardo lavora Heichel Hosni non sbaglio che io ricordo come un giovane dottorando o laureando proprio a Pisa con me lo frequentavo 19 anni fa che ha fatto un percorso decisamente logico matematico ecco bene penso che Heichel se volesse sarebbe un ottimo data scientist ecco quindi vedete che all'interno della filosofia all'interno dei percorsi in filosofia se fatta bene con serietà e cercando appunto dentro di noi facendo un po' il discorso da filosofo ciò che ci interessa veramente la filosofia è sempre pronta ad aiutarci perché nel momento in cui io sono ritornato a studiare programmazione matematica eccetera tutto il mio percorso filosofico mi è venuto dietro mi ha aiutato non l'ho sentito come una zavorra ma l'ho sentito come un plus che mi ha aiutato a comprendere meglio da un punto di vista diverso cose che non avevo studiato in precedenza o se le avevo studiate le avevo studiate da un punto di vista laterale ecco quindi siate orgogliosamente filosofi che è la laurea più bella che potete presta grazie mille Antonio due cose velocissime uno dato che citavi Eichel in effetti fa parte del nostro dipartimento ma non solo in realtà è stato lui a introdurre questa iniziativa nel 2018 quindi ecco qua salutatemelo poi casomai lo farò senz'altro volevo anche sottolineare che quando ti sei definito Wittgensteiniano di ferro il mio cuore si è aperto dopo insomma essermi sentito citare Heidegger e Jonas che non possono che essere nemici per me sempre dall'ievo diretto di Aldo Giorgio Gargani non potrei che essere uno che i maestri sono stati Aldo Giorgio Gargani e Francesco Orlando altra area ma sempre menti di un certo livello ecco volevo invece solamente una brevissima domanda visto che a un certo punto hai citato un master di secondo livello in data science e visto che non siamo aziendalisti se puoi magari dire qual è questo master visto che lo consigli molto volentieri non è a Milano ma è il master dell'università di Pisa diretto dal professor Pedreschi in collaborazione con il CNR di Pisa perfetto grazie mille allora niente ringrazio tutti e tre è stato estremamente interessante e passiamo ai nostri prossimi speaker grazie ancora grazie grazie arrivederci grazie mille ciao allora vedo Manuela vedo Greta e adesso arriverà anche Giuseppe ok perfetto ti chiediamo la cortesia in anticipo Andrea di abilitare Giuseppe perché così poi potrà presentare la proiettare la sua presentazione mi porto avanti penso di averlo già abilitato come relatore perfetto Giuseppe confermi di essere abilitato vero? spero di sì facciamo la prova dovresti credo tra i relatori perfetto va bene allora passo la parola Manuela Cigliutti Greta Campodonico Giuseppe Asprella di GFG Technologies e la loro presentazione in qualche modo un pochettino come la presentazione precedente va ad approfondire un'area che sta diventando direi esponenzialmente sempre più importante che nell'incontro precedente avevamo iniziato ad approfondire con la presentazione di Andrea Guerra e Chiara Manganini quindi restiamo su quest'area prima di passare a discutere di qualcosa di completamente differente con il nostro ultimo talk quindi Manuela ci date la parola intanto grazie Andrea grazie ai presenti perché comunque per noi è un'opportunità che speriamo poi diventi un'opportunità anche per chi ci ascolta e io dirò due brevissime parole nella ex vesti di responsabile della selezione della talent acquisition di GFT Technologies da poco entrata nel mondo del marketing quindi c'è qui Greta che rappresenta benissimo poi tutta la parte di talent acquisition e dalla persona a cui alla fine di questo di questo speech potrete eventualmente rivolgervi per avere informazioni su eventuali iter di selezione approfondimento e tutto quello che riguarda poi il vostro il vostro futuro che spero sarà in GFT Greta magari se mi supporti proiettando due slide giuro che dico due cose brevi sono una rinomata chiaccherona ditemi voi quando si vede per favore mettimi per cortesia si vede grazie se metti per cortesia la seconda GFT Technologies è una multinazionale tedesca è dal 1987 che siamo sul mercato non vi tedio con la storia dell'azienda che potrete poi andare a a vedere a leggere sulla ovviamente sui nostri portali e sul sito ci tengo particolarmente a questo incontro perché siamo un'azienda che malgrado ci si occupi di tecnologia di system integrator di integration di tutto quello che riguarda software dati innovazione siamo un'azienda umana quindi siamo un'azienda in cui il contributo di persone che hanno un titolo di studio e un percorso umanistico può fare la differenza siamo umani perché dedichiamo veramente tantissima attenzione a quello che è lo sviluppo dei percorsi di crescita del training delle persone che entrano da noi soprattutto se parliamo di neolaureati la guerra dei talenti che è una parola che avrete sentito dire tantissime volte o che leggerete su qualsiasi comunicato e comunicazione da LinkedIn ai vari portali per la ricerca del lavoro è veramente una guerra di talenti nel senso che le aziende fino a qualche anno fa cercavano prevalentemente le competenze oggi cerchiamo il talento inteso come predisposizione e potenziale all'apprendimento e poi a metterlo in pratica su quello che poi è lo stile la cultura il carattere il cuore dell'azienda in cui si va a lavorare lascio la parola a Greta quindi che approfondisce un pochino più nel dettaglio di me che cosa vuol dire essere umani quindi con i due punti i due blocchi che vedete nel cosa facciamo e soprattutto nel caring e poi lasceremo la parola a Giuseppe Asprella che è il nostro data practice lead per l'Italia ma con un piedino anche in Europa che vi parlerà di come potreste trovare uno sbocco professionale nel mondo dei dati all'interno di GFT Technologies quindi grazie a tutti e buon ascolto grazie grazie Manuela quindi non mi ripeto e non mi soffermo troppo su quello che facciamo l'ha detto velocemente appunto Manuela poi verrà ripreso anche da Giuseppe in realtà ci piaceva soffermarci sulla parte umana e su come quello che facciamo per lo sviluppo dei dipendenti nel senso che oltre a essere un'azienda informatica siamo anche un'azienda che si dedica molto al benessere interno quindi quello che ci piace sottolineare diciamo è che all'interno all'interno di GFT ci si focalizza molto su quelle che possono essere attività legate al benessere del dipendente come potete vedere dalle slide diciamo che abbiamo portato avanti nell'ultimo periodo già precedentemente ma con diciamo un focus più importante soprattutto dovuto anche al distanziamento portato da questa pandemia abbiamo portato avanti delle attività che permettono al dipendente di sentirsi a proprio agio di seguire dei percorsi dedicati a se stesso abbiamo fra le varie attività che abbiamo portato avanti insieme agli altri uffici HR abbiamo implementato abbiamo diciamo inserito la disponibilità per i nostri dipendenti di un sportello counseling per potersi confrontare e per potersi sfogare ci dedichiamo molto al well being dei dipendenti attraverso diciamo giornate dedicate al seguire diciamo una nutrizione sana piuttosto che a delle giornate di sport e altre tante attività abbiamo ogni mese cerchiamo di portare avanti delle attività che possano essere e che si possano legare a quella che è l'importanza della prevenzione ad esempio ad ottobre ma anche a novembre abbiamo messo a disposizione dei professionisti per i nostri dipendenti che ci parlassero di prevenzione e poi altre tante attività verranno studiate per il futuro un altro punto importante che sottolineiamo in azienda e che ci fa piacere che anche i dipendenti portino avanti sono tutte le tematiche legate alla sostenibilità alla sostenibilità all'etica di impresa e alla responsabilità sociale non voglio annoiarvi troppo poi come ha detto Manuela io rimango a disposizione per qualsiasi vostra necessità domanda curiosità lascerei la parola a Giuseppe ed in qualsiasi caso potete poi contattarci vi lasceremo il nostro la nostra mail potete contattarci per qualsiasi domanda giusto un overview veloce su dove siamo dove ci troviamo e quelle che sono le nostre sedi in Italia siamo siamo in queste sedi poi ovviamente essendo una multinazionale ci siamo sviluppati in altre tante countries lasciare la parola indipendentemente dalle sedi un regime di full smart working noi avevamo già lo smart working prima della della pandemia e dal momento in cui c'è stata purtroppo la pandemia abbiamo messo tutti i nostri dipendenti ovviamente in sicurezza e il regime dello smart working rimane oggi noi stiamo facendo al contrario nel senso che chiediamo il permesso per andare in ufficio piuttosto che per che per stare a casa quindi gestiamo tutto attraverso la tecnologia le app in cui possiamo verificare l'affluenza agli uffici ai diversi uffici che abbiamo delle persone l'app gestisce ovviamente il distanziamento sociale in automatico i nostri uffici si stanno trasformando in luoghi di aggregazione piuttosto che luoghi di lavoro inclusa la birretta del venerdì sera distanziati ovviamente quindi questo per dire che l'attenzione ai dipendenti malgrado la distanza rimane e tutte quelle che sono le attività per evitare anche un po' l'alienazione che abbiamo riscontrato in tanti giovani che non avevano mai lavorato prima che si sono trovati noi abbiamo assunto 100 persone lo scorso anno neolaureate intendo che non hanno mai messo piede in ufficio né per fare i colloqui né per fare l'onboarding l'induction e tutti quelli che sono poi stati percorsi di inserimento nei team di lavoro e nei gruppi quindi manteniamo questo regime vediamo che però l'affluenza agli uffici è sempre più più frequente proprio perché stiamo realizzando tutta una serie di attività mirate al benessere anche all'interno degli uffici Taccio lascio la parola ai contenuti quelli tosti e passiamo la parola a Giuseppe grazie grazie Manuela grazie Greta grazie a tutti tra l'altro di essere presenti fisicamente e virtualmente a questo incontro datemi un secondo che vi proietto le slide dicevo che sono comparsa ok perfetto ecco qua mi sentite ancora credo di avere un po' di problemi tecnici ti vediamo sinceramente sfogato ma ti sentiamo perfettamente e vediamo le slide diciamo che è un di cui la mia figura quindi va bene così allora io parto parto subito con un attimo descrivendovi un po' chi sono e il mio percorso Giuseppe Asprella attualmente Data Practice Lead all'interno di GFT Technologies con un background che vedete rappresentato in questa slide con una laurea magistrale in filosofia della scienza e da qui poi insomma all'inizio di una carriera molto molto variegata inizialmente come tecnico per diversi anni quindi con uno sviluppatore software quindi un tipo di codice in una startup spostandomi poi sulla parte un po' più gestionale dei progetti in che tipologia di progetti ovviamente tutto quello che è legato al mondo al mondo dati Big Data e Advanced Analytics come già anticipato precedentemente come area di riferimento fino ad arrivare insomma negli ultimi tre anni a ricoprire dei ruoli un ruolo un po' più di coordinamento di un gruppo di specialisti in realtà al netto di questo sketch pessimo il mio background accademico non è assolutamente legato alla filosofia o meglio mio malgrado dopo dopo appunto insomma la scelta e la fine del del liceo avevo due passioni fondamentali quello della filosofia della storia e quello della tecnologia e credo e vado a memoria forse di aver tirato quasi una moneta nello scegliere la via che mi avrebbe poi in un certo senso portato allo sviluppo di una carriera professionale in realtà è venuto fuori ingegneria e quindi sono partito diciamo in questo percorso questo ripeto al netto di questo sketch pessimo ma il concetto che voglio passarvi è che fino all'incirca 15-20 anni fa come era già stato poi detto dai colleghi in precedenza era molto raro quindi si contano veramente sulla punta delle dita le persone che con un background umanistico quindi letterario filosofico abbiamo poi intrapreso una carriera in realtà di consulenza tecnologica quindi nel mondo del cosiddetto ICT Information Consulting Technologies in realtà siamo qui oggi per dire che non è più così fortunatamente avevamo già esempi anni fa ma oggi più che mai diciamo così un background accademico umanistico porta concretamente a poter iniziare un percorso in ambito tecnologico come vi dicevo in precedenza io mi occupo da diversi anni quasi da una decina d'anni di progetti di innovazione che riguardano appunto il mondo molto molto vasto dei dati e oggi vi porto la testimonianza diretta ok di chi appunto ha lavorato per anni in questo mondo e che voglio dire rappresenta ad oggi veramente una realtà cioè i dati hanno un impatto pervasivo enorme e concreto nella vita di tutti i giorni e volevo portarvi un po' di come dire di slogan sotto due punti di vista quello che vedete qui è quello rappresentato diciamo così dai professionisti del settore o quasi ok poi vedremo come il dibattito filosofico molto fervido in questi ultimi anni appunto portato a delle riflessioni sul mondo dei dati in generale ma sotto tanti punti di vista come vedete al netto della citazione che mi ha rubato il collega precedente ma che sia assolutamente molto molto nota quindi il data scientist come figura professionale diciamo così definita più sexy del ventunesimo secolo che dimostra insomma questo hype che vedete che è agli occhi di tutti oggi presente nel mondo dati però esistono questi 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 concetti che ho pensato diciamo così di riassumere in questa in questa slide che sono particolari per esempio il primo data uguale conoscenza ci si aspetta o meglio si ha avuto si ha l'impressione diciamo così che immagazzinare elaborare una quantità molto grande di dati ma soprattutto dati di qualità possa rappresentare una vera conoscenza altro slogan basta tirare e indovinare no? quindi cerchiamo nei dati e nelle tecniche nelle tecnologie no? a supporto per la loro elaborazione un supporto nel prendere delle decisioni in modo efficace questo è vero anche sotto il punto di vista dell'efficienza no? quindi ci aiutano insomma tutti questi processi queste procedure ci aiutano ad avere un aiuto concreto no? quindi aumentano l'efficienza in tanti aspetti ultimo concetto molto particolare che ultimamente è una sorta di trend in questo mondo si parla di data monetization cioè i dati rappresentano un vero e proprio asset aziendale che sono ed è quest'ultimo è esprimibile in termini economici sono slogan che mi fanno mi hanno fatto e mi fanno pensare pensare abbastanza no? e riflettere in particolare l'ultimo no? cioè il concetto di data monetization è un concetto molto particolare quindi ci si sta diciamo nelle comunità di professionisti nel mondo dati e ovviamente poi nelle realtà aziendali e consulenziali quelle di GFT ci sta approcciando a questo a quest'area no? che è molto particolare questo diciamo così erano gli slogan dal punto di vista diciamo così di professionisti o semitalli del mondo dati ma dal punto di vista filosofico che cosa qual è un po' il dibattito no? ormai un po' di anni fa David Brooks sul New York Times diciamo così coniato il termine dataismo dicendo cosa? che sostanzialmente l'intero universo potesse essere rappresentabile come un flusso di dati e l'essere l'essere umano ha il ruolo diciamo così di veicolo di questa continua moltiplicazione dei dati e fa sì che il valore di ciascun fenomeno entità è determinato dal suo contributo all'elaborazione di dati Harari nel suo ultimo libro 21 lezioni per il secolo presente prende questo 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 concetto e lo estremizza anche in termini un po' distruttivi no? e in particolare il concetto un concetto fondamentale è questo e lo cito leggendo quello che vi riporto usano i big data e l'apprendimento automatico per conoscervi sempre meglio se gli algoritmi comprendono quanto vi accade meglio di quanto lo comprendiate voi stessi l'autorità si trasferirà a loro quindi ecco diciamo che ci sono tanti aspetti di dibattito no? chi più conservativo no? chi più ottimistico e chi meno però il dato o i dati e ripeto l'intelligenza artificiale cioè tutte quelle tecniche per elaborare grosse quantità di dati sono il centro e il presente insomma anche nel dibattito filosofico oltre che scientifico ma adesso veniamo veniamo un po' al punto della situazione quindi cerchiamo di volevo rappresentarvi un po' quali quale sia il ruolo no? che ci immaginiamo e che in realtà è concretamente già iniziato dei filosofi no? in quella che Luciano Floridi nomina quarta rivoluzione no? quindi l'impatto di queste nuove tecnologie digitali sta oggettivamente avendo e concretamente entrando nelle nostre vite no? cambiando e mutando anche la comprensione di noi stessi e di tutte le dinamiche di socialità riporto qua una citazione dello stesso Floridi del suo libro La quarta rivoluzione rinnovando questo impatto molto presente del mondo dei dati all'interno della società e qua per citarlo letteralmente ci sono talune persone nel mondo che vivono già nell'età dell'iperstoria società e ambienti nei quali le ICT e le loro capacità di processare dati non sono soltanto importanti ma rappresentano condizioni essenziali per assicurare e promuovere il benessere sociale la crescita individuale e lo sviluppo generale in sostanza cosa vuol dire? vuol dire che poi c'è l'esempio sottoriportato tanti tanti paesi hanno almeno il 70% del loro prodotto interno lordo che dipende da beni intangibili quindi fondati su quello che è l'uso poi dell'informazione e dei dati questo è fondamentale nuovamente per sottolineare il fatto che dati e tecnologia stanno avendo un impatto veramente concreto enorme e da qui il punto come i filosofi e quindi chi ha sviluppato competenze di pensiero critico di pensiero laterale analitico può entrare ed essere protagonista in questa era della quarta rivoluzione beh i filosofi rappresentano e rappresenteranno in un futuro prossimo figure professionali che saranno necessarie per in particolare per guidare l'azienda nella comprensione degli impatti che queste nuove tecnologie avranno sull'individuo e sulla società entrando un po' più nel concreto nel mondo dati come diciamo così quali sono le aree di applicazioni hanno già i colleghi in precedenza hanno già citato diciamo così l'area della data science scusate come una delle possibili applicazioni che è assolutamente molto tecnica e quindi in realtà è per definizione una diciamo così un'area dove competenze diverse devono assolutamente trovare un incrocio che sta parlando quindi delle competenze informatiche statistiche e matematiche quali sono però le altre aree del mondo dati dove concretamente il filosofo può dare un contributo quello che vedete qui rappresentato è il cosiddetto scusate l'inglesismo ne fa da padrone nell'ambito tecnologico nel linguaggio data and AI AI ethics è un tema questo lo porto come testimonianza diretta di tutte quelle associazioni le comunità internazionali di gestione del dato di data management sia da questo punto di vista sia chiaramente dalle aziende che sono poi clienti per le società come la nostra che appunto fanno consulenza e hanno individuato l'etica dei dati e dell'intelligenza artificiale come una delle aree applicative dati più importanti nei prossimi anni questo è ancora per citare poi ancora Floridi la tecnologia non è neutrale serve una cultura del dato umano centrica lui parla di human data science quindi la data science e l'etica sono e la data ethics e le AI ethics sono strettamente legati e in un futuro non saranno considerati due aspetti diversi concretamente un altro aspetto fondamentale che stiamo già sperimentando oggi con i clienti finali è un'attività di consulenza che va sotto il nome di data strategy cioè tutta quella serie di attività per cui aiutiamo le aziende qualsiasi settore di mercato in maniera abbastanza trasparente e indipendente a guidarli in quella che viene chiamata trasformazione data driven quindi utilizzare i dati e gli assedati interni anche per tutta quella serie di cioè per ottimizzare tutta quella serie di processi interni all'azienda stessa e poi una cosa fondamentale per diciamo così un consulente è la parte di comunicazione e relazione con il cliente che è assolutamente fondamentale e oggi più che mai perché ci si trovano a dover spiegare delle tecnologie e dei concetti spesso poco voglio dire poco chiari da chi non ha un background analogo e comunque anche relativamente tecnico quindi più che mai persone con un background accademico filosofico umanistico in generale trovano nelle competenze comunicative di pensiero analitico una risorsa fondamentale per fornire e diciamo così esporre in maniera chiara anche tutte quelle situazioni in cui diciamo così l'intelligenza artificiale rappresenta un po' una nube per chi poi la deve utilizzare per chi poi ne deve giustificare in un certo senso l'utilizzo e capirne poi il valore chiudo in maniera molto breve dicendovi un attimo quali sono le aree che il gruppo che coordino all'interno di GFT diciamo così si occupa ripeto il dominio dei dati è un dominio estremamente ampio in realtà dati non vuol dire soltanto big data o intelligenza o intelligenza artificiale anzi esistono come vedete qua elencate una serie di aree ok ne mancano anche in realtà un paio quindi legate proprio alla parte di privacy e security del mondo dei dati ma tendenzialmente quello che diciamo così quello che volevo rappresentarvi è un po' quello che facciamo abbiamo delle aree estremamente diciamo così tecniche ok sulla parte legata alla progettazione alla realizzazione di architetture dati complesse big data tradizionali su cloud aree chiaramente come si diceva già in precedenza di tutta quella serie di progetti legati al mondo dell'apprendimento automatico dell'intelligenza artificiale e poi tutto quello che è un diciamo così framework così chiamati per gestire il dato queste sono quelle aree tecniche esistono poi tutta una serie di aspetti diciamo così meno tecnici legati a come vi dicevo prima attività di vera e propria consulenza nel mondo della data strategy e soprattutto di quello che è un'area molto importante che è la data governance cioè la rappresentazione di tutto quello che è il ciclo di vita del dato ultimo ma importantissimo è l'aspetto di innovazione o meglio di co-innovation in GFT esiste una unit dedicata all'innovazione che in sinergia con tutte le altre unit practice compresa porta avanti tutta una serie di tematiche legate a progettualità finanziate dalla comunità europea e proprio su quest'area ultimamente le diciamo così quelle aree che vedete sottolineate insomma evidenziate in fucsia rappresentano le aree su cui noi abbiamo bisogno di figure di creare figure diciamo così ibride quindi con un background umanistico e che siano diciamo così ovviamente dopo un percorso di formazione agiscano attivamente in questi contesti cosa sta facendo GFT a proposito di questa inclusione di questa creazione di queste figure ibride beh come vi dicevo c'è un investimento interno insomma dell'azienda su quelle che sono le aree che vi ho descritto in precedenza è partito un programma di assunzione anche se recente di neolaureati in filosofia con proprio con l'obiettivo di inserirla di inserire queste figure all'interno appunto della practice o meglio delle aree della practice che vi ho citato prima e ovviamente questo è una condizione necessaria ma già sottolineato negli interventi precedenti questo non viene fatto così buttato no buttando queste questi nuovi collaboratori in un contesto che non che appunto è necessario avere una una formazione anche tecnica impegnativa e quindi chiaramente abbiamo poi portato tutta una una serie di iniziative di formazione interna e anche supportata da da coach esterni per al fine appunto di creare no questo questo trade union che che per noi ha proprio un'applicazione concreta in progetti concreti in iniziative concrete bene credo credo di aver finito e scusate se sono andato oltre no non è non penso che sia un grandissimo problema grazie mille grazie mille a tutti e tre grazie mille in particolare per questa iniziativa di di assunzione di neolaureati in filosofia e dell'iniziativa di cercare di di proporre ulteriore formazione io ho solamente una domanda specificatamente per Giuseppe e specificatamente per Giuseppe in quanto ingegnere informatico cioè da ingegnere come procedura di decisione generale per prendere decisioni nella vita raccomandi il metodo che hai utilizzato per scegliere in che cosa laurearti cioè il lancio della moneta cioè ritieni che abbia dei limiti epistemici in alcuni casi particolari o sia applicabile solo a quel caso particolare della scelta del corso di laurea diciamo che per una gran parte della mia vita è stato un metodo assolutamente utile ok poi sono subentrati i dati poi sono subentrati i dati no? quindi diciamo che diciamo che facevi già calcoli di probabilità ancora prima di sapere che li avresti fatti estremamente semplici direi ma efficaci ma efficaci perfetto ti ringrazio ok ho visto Chiara qualche domanda? Chiara no ah pensavo volessi fare una domanda ti ho visto no 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 è la nostra ultima relatrice che mi sono mi si è disconnesso tutto proprio adesso quindi stavo solo dicendo ci sono perfetto allora se ci sono delle domande o qualsiasi cosa vi scrivo adesso non sono abilitata nella chat però sicuramente vi faremo avere tramite Andrea le nostre caselle di post elettronica i nostri nomi il processo di selezione aggiungo solo quest'ultima cosa dei profili laureandi o perché abbiamo anche eventuali opportunità di stage per persone che devono ancora conseguire la laurea ovviamente o per i laureati avviene attraverso ovviamente una prima chiacchierata con l'ufficio della talent acquisition un assessment alias colloquio di gruppo che possiamo fare benissimo e continuiamo a fare a distanza e e e poi passiamo i candidati nelle mani di Giuseppe con cui avrà ovviamente un un confronto non soltanto su quello che sono le competenze che ovviamente non ci sono quindi noi non cerchiamo i neolaureati con esperienza ovviamente in qualsiasi campo e e con qualsiasi titolo di studio però andremo ad analizzare quelle che sono le affinità di interesse e di potenziale con quello che poi Giuseppe e la practice possono offrire previsionalmente anche per il futuro e da lì poi il processo di selezione si conclude se positivamente con una regolare assunzione all'interno di GFT fatta eccezione ovviamente per chi come ho detto prima deve fare ancora magari la tesi o ha necessità di iniziare con uno stage formativo e retribuito ovviamente da parte nostra grazie a tutti grazie mille Manuela grazie mille a tutti e tre e niente passiamo alla nostra ultima relatrice che è Chiara Lusetti da Africa 70 che parlerà di un ambito molto differente che è quello delle ONG ossia delle organizzazioni non governative e qua mi devi perdonare un attimo Chiara che scarico le tue slide perché le devo proiettare io esatto mi sa di sì io non ho la possibilità quindi dammi 20 secondi scusate ma le avevo scaricate sull'altro computer non c'è problema ok perfetto le vedete sì perfetto io le vedo poi ti faccio ti dico quando allora andare avanti allora appunto come diceva Andrea io vi parlerò un pochino di come un laureato in filosofia può lavorare nella cooperazione internazionale cooperazione internazionale è un termine un po' generico insomma ed è un settore molto tecnico in cui però non è detto che non ci possa essere spazio per chi appunto ha una formazione più umanistica e meno tecnica io stessa non sono laureata in filosofia ma ho una formazione prettamente umanistica e ormai sono dieci anni che lavoro in questo settore tendenzialmente cercherò di darvi qualche spunto molto concreto su quali sono le competenze che vi servono che già dovreste avere dalla vostra laurea quali sono le competenze che andrebbero rafforzate in un piccolo percorso eventuale post laurea o in laboratorio durante la laurea e le competenze invece più personali che servono nel nostro settore e su dove proprio andare a cercare offerte di lavoro in questo settore quindi questo è un pochino quello di cui vi parlerò io appunto sono Chiara Lusetti e sono coordinatrice di una piccola ONG di Monza che si chiama Movimento Africa 70 non so se vuoi passare alla slide successiva per favore vi dico due cose su chi siamo e un pochino sul mondo delle ONG in generale perché è un mondo appunto in realtà vasto con molte differenze al suo interno noi siamo un ONG piccola ma storica quindi quest'anno compiamo 50 anni perché siamo nati nel 1971 e inizialmente eravamo un movimento spontaneo popolare di sostegno ai processi di decolonizzazione dei paesi africani nel frattempo ci siamo accreditati con il ministero degli affari esteri per svolgere appunto progetti di cooperazione inizialmente soprattutto con architetti che si occupavano di gestione del territorio e pian piano siamo diventati un ONG professionale che fa questo di lavoro un ONG di sviluppo vi ho scritto perché diciamo che in generale i progetti di cooperazione si dividono in progetti di sviluppo e progetti di emergenza i progetti di emergenza lavorano in contesti appunto in cui c'è stata un'emergenza e devono essere rapidi e portare assistenza immediata i progetti di sviluppo invece costruiscono processi in contesti relativamente più tranquilli e hanno una durata temporale anche un pochino più ampia noi facciamo solo sviluppo quello che vi voglio raccontare oggi secondo me vale un po' per entrambe le tipologie noi ci occupiamo di appunto come vi dicevo prima gestione sostenibile del territorio sicurezza alimentare tantissimo quindi come garantire l'accesso a un'alimentazione sicura sia tramite la tutela della salute animale che tramite la tutela della salute umana appunto e l'agricoltura abbiamo progetti di turismo comunitario soprattutto a Capoverde che come sapete è appunto il luogo di turismo di massa e noi stiamo cercando di lavorare invece su un turismo che parta più dalla comunità con l'accoglienza in famiglia eccetera e progetti di cittadinanza attiva ed educazione alla cittadinanza mondiale questo adesso vi spiego un po' che cos'è lavoriamo in Niger Mauritano Capoverde e campi profughi Sahrawi in Algeria che sono un contesto un po' particolare e in Centro America in Salvador e Guatemala vedete che c'è un pallino anche sull'Italia perché appunto la cooperazione internazionale si fa anche in Italia inizialmente si chiamava appunto educazione allo sviluppo era un'attività nelle scuole e con la cittadinanza in cui si raccontava un po' i contesti dei paesi in cui si lavora e si andava a sensibilizzare su queste tematiche raccontando i progetti eccetera eccetera oggi si è un pochino evoluta ha cambiato nome si chiama educazione alla cittadinanza mondiale che sono fondamentalmente progetti di educazione formale e non formale sia nelle scuole che per i cittadini sui temi dell'agenda 20-30 che non so se conoscete sono gli obiettivi che le Nazioni Unite hanno dato al mondo per il 2030 questo se lo cercate in Google c'è tantissimo materiale sono 17 obiettivi molto legati a quello che noi facciamo anche nel mondo e appunto con l'educazione e la cittadinanza mondiale si va a sensibilizzare su questi temi vi dicevo che Africa 70 è una ONG piccola il mondo delle ONG però è molto vario ci sono mi viene un po' da sorridere sentivo prima i colleghi che parlavano parlerete con le risorse umane poi con l'ufficio noi siamo in tre in ufficio facciamo un po' tutto tutti quindi non c'è tanto questa professionalizzazione anche del settore delle assunzioni e della gestione dei risorsi umani nel nostro caso ci sono ONG con centinaia di dipendenti che invece hanno assolutamente un processo di selezione molto strutturato con tantissimi passaggi eccetera però appunto cercherò di darvi dei consigli un po' generali che possono andare bene per tutti passa pure alla slide successiva ok allora che cosa facciamo in ufficio come vi dicevo prima io non sono una tecnica sono un umanista i profili che abbiamo diciamo che sono di due tipi a livello di collaboratori dipendenti eccetera un profilo tecnico quindi di persone che si intendono di agricoltura veterinaria turismo comunitario eccetera eccetera che mettono contenuti in quello che facciamo e che coordinano attività sul campo io non sono uno di questi e nemmeno voi oppure un progettista quindi persone che si intendono di gestione di progetti che cos'è un progetto io appunto vi ho parlato vi ho detto noi facciamo progetti di cooperazione internazionale nel mondo e in Italia purtroppo appunto o per fortuna ormai si lavora tantissimo su bandi quindi noi abbiamo tutta una serie di finanziatori che finanziano i nostri progetti che hanno una durata ben precisa e che vengono svolte appunto nei diversi nei diversi paesi in cui lavoriamo il fatto di avere questa questo tipo di questa modalità di lavoro su finanziamenti fa sì che i progetti abbiano dei cicli ben precisi che non sempre dipendono dalla tua volontà ma che devono anche rispettare le tempistiche e le regole che il finanziatore mette in generale sempre quando si fa un progetto ci sono una serie di fasi di ciclo di progetto in cui il progettista interviene io qui ve le ho elencate adesso ve le spiego tutte comunque sono l'identificazione la formulazione il finanziamento l'implementazione la rendicontazione la fase di identificazione è quella fase in cui io lavoro in un paese cioè lavoro in Niger nelle regioni di Tilaberi per esempio dove noi lavoriamo e sono lì da un bel po' di tempo mi accorgo che c'è un problema che avrebbe bisogno di una serie di interventi per rispondere appunto a questo problema questa fase viene chiamata analisi di contesto è una fase in cui vengono individuati i bisogni di un territorio in cui si lavora si possono fare delle inchieste si possono fare dei questionari si possono finanziare degli studi si possono studiare in modo dettagliato documenti già esistenti quindi è una fase proprio di analisi di ricerca che è preliminare alla realizzazione di un progetto e in questa fase un filosofo può essere estremamente utile soprattutto laddove c'è appunto da strutturare delle ricerche oppure da studiare documenti ufficiali di diversi organismi e questa è una fase che è un po' pre-progetto in realtà perché qui siamo prima del finanziamento è un qualcosa che si fa che l'ONG fa a spese proprie e come investimento per riuscire ad avere un progetto finanziato ed è importantissima perché se si fa male la fase di identificazione i progetti poi falliscono perché se non si tengono conto tutta una serie di fattori del contesto ma si fa un'analisi semplicistica si rischia di non individuare dei fattori killer che vengono chiamati che possono andare a neutralizzare o a uccidere completamente il tuo intervento ve lo faccio facile si potrebbe fare un corso di due giorni su questo però è giusto per darvi qualche spunto la fase di formulazione è una fase molto bella che a me piace moltissimo è quando esce il bando del finanziatore e quindi bisogna scrivere il progetto per andare a chiedere appunto un finanziamento sulla nostra idea progettuale in questa fase appunto bisogna scrivere quello che si vuole andare a fare secondo il formulario previsto dal progetto dal finanziatore che di solito prevede alcune cose che ci sono sempre che sono ovviamente il testo di progetto il quadro logico che è un qualcosa di cui dopo parleremo che è fondamentale perché è una sorta di riassunto del progetto voi in un unico file in Word vedete tutti gli obiettivi i risultati le attività che andate a compiere con le modalità che vi date per controllare che il progetto vada bene poi ne parliamo e poi il budget finanziario queste sono le tre quindi con che soldi vado a fare le attività che io programmo con quali risorse questo va fatto sempre e anche in questa fase un filosofo è estremamente utile perché appunto è molto importante essere capaci di scrivere bene in modo sintetico ma estremamente chiaro ed efficace e di insomma avere competenze relazionali di comprensione molto molto approfondite questo voi direte beh lo sanno fare tutti assolutamente no sono veramente pochi le persone che hanno queste competenze i laureati in materie umanistiche tra cui la filosofia invece nella mia esperienza sono tra quelli che riescono a farlo bene c'è poi la fase di finanziamento che è quando il finanziatore dice ah ok selezioniamo il tuo progetto ci piace lo finanziamo e quindi si firma il contratto fase molto rapida la fase di implementazione che invece dura anche tre quattro anni che è la fase in cui si realizza un progetto che si divide in implementazione tecnica quindi la realizzazione delle attività che io ho previsto e la realizzazione finanziaria la gestione del budget quindi la programmazione di spesa la gestione dello speso e la fase poi di rendicontazione che dopo la fine del progetto bisogna rendere conto di quello che si è fatto non è anche una questione etica io ho ricevuto dei fondi devo rendere conto di come li ho utilizzati e può essere una rendicontazione tecnica non può essere è sempre una rendicontazione sia tecnica quindi una rendicontazione un racconto delle attività che si vanno a fare sia finanziaria quindi una rendicontazione delle spese immagino che nessuno di voi sarà innamorato della parte finanziaria neanche io lo ero adesso in realtà mi piace molto però appunto in tutte queste fasi c'è un sono necessarie delle competenze appunto che un filosofo assolutamente ha poi a seconda della grandezza dell'ONG in cui uno va a lavorare magari si lavora solo sulla fase di formulazione ci sono progettisti che scrivono progetti ma poi non le gestiscono progettisti che gestiscono progetti su determinati temi ma non ne hanno mai scritto uno eccetera in contesti piccoli come il nostro ovviamente si finisce a fare un pochino un pochino di tutto direi che un filosofo è molto molto a suo agio nelle prime due fasi identificazione e formulazione sono due due appunto fasi di lavoro in cui le vostre competenze sono estremamente estremamente utili non che non lo siano anche dopo però in queste due moltissimo procederei io ho cercato di elencare un pochino proprio le competenze che vengono messe nel curriculum perché nel curriculum c'è tutta la parte di competenze personali altre competenze eccetera eccetera bene cosa mi serve vedere in un curriculum di qualcuno che si candida per lavorare con me allora ci sono una serie di competenze di base che ecco queste non sono effettivamente scritte nel curriculum ma che do per scontato che un laureato magistrale in filosofia abbia come vi dicevo prima che sono la comprensione di un testo la capacità di redazione la capacità di analizzare in modo dettagliato dei documenti una ottima capacità di sintesi perché bisogna a volte in certi formulari bisogna sintetizzare una situazione estremamente complessa in magari 1500 caratteri è difficilissimo però è appunto è veramente molto importante farlo bene perché altrimenti non arriva a chi poi va a leggere e valutare il nostro progetto non arriva la complessità e la gravità di quello che stiamo scrivendo quindi è una competenza importantissima in generale appunto una capacità di saper comprendere la complessità dell'esistente voi lo sapete molto meglio di me che nulla è semplice è tutto interconnesso io non posso andare ad analizzare un contesto senza tenerlo in considerazione nel suo complesso non posso andare a vedere delle cose micro su cui magari io voglio lavorare senza tenere conto tutto quello che c'è intorno e questa capacità vi assicuro che non ce l'hanno assolutamente tutti quindi la capacità di saper problematizzare tutto quello che si incontra e poi vi ho inserito anche le lingue straniere questo perché non lavoriamo solo con l'italiano dipende dai finanziatori o se si lavora i nostri grandi finanziatori diciamo che sono l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo e l'Unione Europea se lavoriamo con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo i progetti si iscrivono in italiano se lavoriamo con l'Unione Europea i progetti si iscrivono con la lingua ufficiale del paese in cui si va a lavorare quindi nel nostro caso noi non lavoriamo molto con l'inglese ma in altri casi sì lavoriamo moltissimo con francese spagnolo e portoghese quindi ovviamente chi ha conoscenza di una lingua straniera buona in modo da sapere scrivere bene in questa lingua ha un punto di forza ecco quindi queste sono competenze di base che a parte questa delle lingue io credo voi abbiate acquisito nel vostro percorso cioè mi aspetto che queste ci siano ci sono poi delle competenze personali che appunto sono quelle famose che vanno in fondo al curriculum e uno le scrive senza mai neanche pensare tanto bene a cosa vogliono dire sono forse le più importanti tra le più importanti io ve ne ho messe tre che secondo me sono veramente fondamentali che sono l'adattabilità la capacità di lavoro di squadra e la capacità di lavoro in situazioni di forte stress perché perché lavorare sulla progettazione con dei finanziatori che pongono delle scadenze è estremamente stressante perché si lavora appunto continuamente sotto scadenze e non è come cioè mi rendo conto che anche avere un cliente che aspetta un lavoro è una scadenza e mette stress ma se io consegno il mio prodotto al mio cliente il giorno dopo tendenzialmente non è estremamente grave se io invio la PEC con cui devo inviare un progetto all'Agenzia Italiana di Cooperazione dello Sviluppo 30 secondi dopo il limite quel progetto non viene neanche letto quindi io magari ho lavorato tre mesi per scrivere un progetto e questo progetto non verrà mai valutato per un errore di 30 secondi dico 30 secondi perché non è successo quindi sembra impossibile ma capita e quindi bisogna veramente essere capaci di reggere lo stress di queste situazioni lavoro di squadra perché non si scrive un progetto da soli soprattutto se non sia un tecnico appunto lavoro sempre con i tecnici che mi danno le informazioni da inserire io non sono un'esperta di Niger scrivo progetti sul Niger grazie alle persone che lavorano lì e che mi danno le informazioni che mi aiutano a formulare un progetto e adattabilità perché è un lavoro in cui si pianifica quello che si va a fare e poi ogni giorno succede qualcosa che ti porta a cambiare la tua pianificazione quindi bisogna veramente essere molto capaci di essere flessibili di non andare avanti solo con schemi e andare in crisi se succedono cose che ci fanno cambiare i nostri programmi perché questo è assolutamente all'ordine del giorno quindi io anche quando prendo dei volontari degli stagisti eccetera su questa cosa qui un po' insisto perché se si è troppo rigidi forse non è il lavoro giusto non è il lavoro giusto per voi ecco terze competenze nella slide successiva sono le competenze invece tecniche e queste io penso che voi non le abbiate perché è normale che sia così sono estremamente tecniche non le studiate a filosofia sinceramente non si studiano in nessuna facoltà forse proprio nei corsi di laurea di cooperazione internazionale ma a me è capitato di avere stagisti di corsi di laurea di cooperazione internazionale che comunque non è che avessero proprio le idee chiarissime su questi temi quindi io ve le elenco giusto perché se proprio vi rendete conto che è il lavoro della vostra vita sappiate che queste cose ve le dovete un po' andare a studiare che sono non tantissime cose ma ovviamente la conoscenza approfondita di tutto il ciclo di progetto che abbiamo visto prima la conoscenza di alcuni strumenti di progettazione di base adesso ce ne sono molti però la cosa assolutamente fondamentale è conoscere bene come si struttura un quadro logico perché come vi dicevo prima è il centro di un progetto tutti i finanziatori anche quelli piccoli lo chiedono e bisogna essere capaci di formulare indicatori oggettivamente verificabili questa cosa è un po' difficile da spiegare così in poco tempo ma il succo è cioè se io dichiaro che con il mio progetto vado a raggiungere alcuni risultati devo anche dire come vado cioè in che modo vado a impattare su questi risultati quantificare il risultato che vado ad ottenere e dire come lo vado a verificare quindi con delle fonti di verifica che siano attendibili non so se è chiaro in caso ditemi che lo riformulo anche su questo secondo me un filosofo se puoi forse fare una brevissima riformulazione di questo punto magari aiuta a me per esempio non era chiaro perché so che molte delle persone guarderanno questo video indifferita magari si faranno questa domanda e non avranno la possibilità di farlo forse devo prepararmi un esempio esempio io dico che voglio raggiungere questo risultato che è incrementare il consumo di proteine da parte della popolazione di questo di questa città dico a caso allora io devo andare a dire come lo vado a fare esattamente quante proteine consumano adesso e quante grazie al mio intervento andranno a consumare alla fine e come vado a misurare questa cosa quindi ad esempio perché so che ho distribuito questo alimento oppure perché abbiamo lavorato insieme sulla salute animale per cui so attraverso dei registri eccetera eccetera quindi questo è era un esempio molto tecnico su cui forse un filosofo dice voglio che centro però ad esempio sui progetti di educazione invece questi indicatori si vanno a formulare soprattutto a partire da report anche delle di agenzie governative e internazionali quindi è molto più discorsivo e descrittivo e meno e meno numerico ecco serve la capacità di redazione e gestione di un budget almeno minima perché comunque se io devo andare a formulare delle attività anche se poi non lo scrivo io il budget perché non sono l'amministratore non mi interessa fare amministrazione devo capire se le cose le attività che io sto immaginando sono proporzionali rispetto al budget che ho a disposizione cioè almeno un minimo avere un'idea e in generale anche se si hanno delle competenze tecniche legate alle tematiche del progetto ma questo non sempre è fondamentale male non fa ecco però secondo me la cosa più importante sono soprattutto i primi due punti ciclo di progetto e strumenti di progettazione ovviamente non uscirete da qui sapendo cos'è un quadro logico ma sapendo che se vi interessa dovete capire cos'è un quadro logico ecco come le potete acquisire io non sono pagata da nessuno per dirvi queste cose vi consiglio alcuni corsi che potete fare fuori dall'università a meno che l'università non si strutturi per fornire corsi su queste competenze se siete di Milano c'è l'ISPI che è l'Istituto degli Studi di Politica Internazionale che fa corsi fa anche dei master molto buoni che ovviamente hanno un costo da master ma fa anche dei corsi di due giorni che invece hanno un costo assolutamente accessibile per tutti e che vi danno proprio queste competenze tecniche e tendenzialmente in curriculum va molto bene altrimenti vi ho segnalato questi altri due enti che fanno corsi online che comunque io ho provato entrambi e sono entrambi buoni questo proprio per andare ad acquisire queste competenze un pochino più tecniche in ultimo vi volevo dire un pochino dove potete andare a cercare lavoro perché non è che ci sono ovunque annunci di lavoro per lavorare nella cooperazione internazionale e io stessa se dovessi cambiare settore sinceramente non saprei da che parte cominciare per cercare lavoro quindi mi sembrava utile dirvi proprio ok voglio lavorare in un ONG su quale sito vado a cercare le offerte di lavoro e li ho messi nella slide successiva esatto allora parto dall'ultimo che è il servizio civile universale che forse conoscete già voi sapete che in Italia appunto esiste questa possibilità che è il servizio civile il servizio civile nasce come obiezione di coscienza il servizio militare oggi ovviamente ha cambiato ha cambiato un pochino forma perché il servizio militare obbligatorio non c'è più in Italia ma il servizio civile è rimasto moltissime associazioni e enti del terzo settore in generale partecipano al servizio civile che cos'è fondamentalmente è la possibilità di lavorare part time per un anno in un'associazione pagati dallo Stato quindi non dall'associazione su progetti specifici in Italia e all'estero noi ad esempio abbiamo sempre due servizi civilisti in sede in Italia e a seconda degli anni ne abbiamo alcuni anche all'estero quest'anno abbiamo quattro persone a Capoverde che seguono i nostri progetti lì all'interno appunto degli uffici locali non sono pagati con uno stipendio pieno diciamo però io credo che siano un'ottima opportunità per entrare nel mondo del lavoro quindi per una volta laureati fare una prima esperienza e quindi io sinceramente ve lo consiglio quello all'estero ancora di più a dei rimborsi un pochino più alti rispetto a quello in Italia e poi vi ho messo le due principali piattaforme su cui noi carichiamo le nostre vacancy quindi il primo è Info Cooperazione che è un portale molto tecnico sul mondo della cooperazione ha una sezione lavoro in cui tutte le ONG pubblicano lì anche offerte di stage quindi non solo offerte per persone con dieci anni di esperienza quindi anche per un primo stage lì trovate tantissime offerte di lavoro e poi vi ho inserito Job for Good che è invece un portale un po' più ampio in cui trovate offerte di lavoro in generale nel terzo settore quindi associazioni cooperative sociali di diverso tipo non per forza ONG che fanno cooperazioni internazionali tendenzialmente noi pubblichiamo sia su uno che sull'altro il primo è più di settore il secondo è un po' più è un pochino più ampio potete fare la selezione a seconda anche delle regioni italiane la possibilità di filtrare molto bene le offerte ed è secondo me un buon un buon portale questo perché appunto se andate su ad ecco non trovate assolutamente niente ecco bisogna anche sapere dove andare a guardare quando quando si vuole cercare un'opportunità altrimenti sembra che non ci sia mai nulla in realtà forse le opportunità ci sono ma non sappiamo non sappiamo dove cercarle e niente io ho parlato velocissimo scusate è andata molto rapida vi ho messo i nostri contatti perché se avete qualsiasi domanda ci sono volentierissimo noi offriamo possibilità di stage curricolari e appunto possibilità di servizio civile non abbiamo in programma un programma di assunzioni per filosofi come la realtà che mi ha preceduta ma perché appunto abbiamo una dimensione un po' diversa ci piacerebbe poterlo fare ma non è fattibile in questo momento tenete conto che appunto tutte le ONG di qualsiasi grandezza hanno sicuramente sempre opportunità di stage tirocinio servizio civile eccetera quindi modalità di ingresso in questo mondo per chi si è appena laureato o sta finendo di studiare ecco e niente non so se ci sono domande non c'è un pubblico enorme ma in caso sono qui so che è un argomento un po' tecnico appunto però spero che vi abbia quantomeno incuriosito penso che come nel caso della grande filosofia il nostro pubblico sta soprattutto nel futuro in questo caso indifferita no detto questo grazie mille Chiara in realtà volevo approfittare dell'occasione visto che a un certo punto hai parlato di competenze un po' più tecniche che che fisiologicamente la nostra popolazione studentesca non ha perché è normale esatto volevo approfittarne per dire che il dipartimento sta per l'appunto pensando di istituire un laboratorio dedicato per l'appunto al mondo delle organizzazioni non governative e visto che c'è la possibilità che tu sia la persona che effettivamente gestisce questo laboratorio volevo chiederti immagino che che l'idea sia che in questo laboratorio verrebbero date anche alcune di queste competenze tecniche assolutamente sì tutte quelle di base fondamentali questa è l'idea ok perfetto niente sono tutta una serie di strumenti che permettono anche di svolgere meglio un'analisi di contesto che si possono appunto approfondire studiare insieme io oggi vi ho citato il quadro logico perché è fondamentale non si può fare un progetto senza sapere cos'è un quadro logico il resto sono strumenti utili che appunto si possono poi vedere in sede di laboratorio ovviamente non in questa sede perché ci vorrebbero ore ma assolutamente sì è quella perfetto grazie mille allora niente sperando che questa cosa vada in porto ma sono più lucioso e se non ci sono domande a questo punto ringrazio Chiara ringrazio anche tutte le altre relatrici tutti gli altri relatori anche se adesso immagino siano andati a fare quello che dovevano fare e niente saluto tutti ciao buona giornata grazie mille ciao grazie Chiara